Il progetto che presentiamo oggi si chiama Smart House for Blind, è il prototipo di una casa domotica in miniatura per non vedenti e tipo vedenti, quindi abbiamo puntato soprattutto sul valore sociale di questo progetto, abbiamo realizzato un'applicazione che è fruibile, quindi è utilizzabile dai non vedenti tramite appunto dei sistemi particolari che dopo spiegheremo, in pratica utilizziamo il sistema integrato Android, l'Android Talkback, e quindi poi ci facciamo con la casa tramite una connessione Wi-Fi o in assenza di essa con la connessione Bluetooth per gestire quelli che sono i comandi all'interno della casa, ma abbiamo anche la gestione degli allarmi, quindi in caso di perdita di gas oppure una perdita d'acqua, noi riusciamo ad avvisare il non vedente in maniera autonoma e quindi possiamo gestire anche la connessione Bluetooth in modo da essere sempre connessi anche in assenza di rete.